Il 52% ha ottenuto il terzo a un livello superiore da subito, quindi ha mantenuto più o meno quelli che erano i livelli, anche se non sono stipendi, sappiamo benissimo che all'interno dei call center non sono stipendi che è molto elevato. Altri hanno avuto un secondo livello, però quello che conta è che la maggior parte, quel 53% che arriva al 60-70% che hanno avuto contratti di lavoro sotto le 20 ore e sotto le 30 ore hanno mediamente un livello di stipendio intorno ai 600 euro mensili, ovviamente quindi con un effetto su quelle che sono le caratteristiche relituali molto pesanti. Tutto questo è avvenuto senza che ci fosse nessun tentativo, nessuna contrattazione, sia a livello sindacale per quanto riguarda il luogo di lavoro, sia a livello nazionale per quanto riguarda l'assunto di lavoro, di compensazione dal punto di vista rituale, perché qui ricordo, mi ha fatto molto piacere il riferimento che è stato fatto prima per quanto riguarda la flexicurity danese, che si dice una cosa e si dimentica l'altra. Un altro esempio classico che viene sempre fatto, e viene spesso fatto con riferimento e col center, dicendo in Olanda, che non parla della Danimarca, e lui lo sa benissimo, in Olanda il 45% della forza lavoro è part time, in Italia solo il 17%. E uno dice, vedi, l'Olanda è molto più flessibile, così come è più flessibile da Danimarca che può licenziare quando cavolo vuole, eccetera, 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 così. Ma ci si dimentica di dire che in Olanda il part time volontario è una libera scelta, cioè c'è una libertà di scelta da parte del lavoratore che è prevalente sui vincoli posti dall'organizzazione del lavoro aziendale, per cui se un lavoratore chiede il part time, l'azienda deve operare in maniera tale da garantirlo, ed è una libera scelta volontaria per ragioni soprattutto per quanto riguarda la manodopera femminile quando hanno dei figli, che compensano produzione con riproduzione. Ma quando il part time viene imposto per esigenze di organizzazione, allora interviene una cassa sociale, uno sistema di welfare che compensa il lavoratore portandolo a livello di stipendio pieno. Cioè io faccio, è come se vuoi, c'è la stabilizzazione dei call center, no? Vi danno un contratto di 20 ore, però o delle casse sociali a livello di settore, o l'intervento è direttamente dello Stato e vi paga le altre 20 ore che non fate per arrivare a uno stipendio non di 600 euro, ma di 1300 euro. Insomma, a questo punto io scelgo il 20 ore, è chiaro? A questo punto. O almeno ho una libertà di scelta in cui posso decidere che cosa fare. Ma questo aspetto che il part time indotto viene pagato, questo è l'aspetto che succede in Olanda, è l'aspetto che in Italia non viene mai detto. Ci sono stati degli effetti, questa stabilizzazione ha portato un aumento nel 2007 intorno all'11,8% del costo del lavoro complessivo a livello lordo. Di cui il 22% ha danno delle grandi gruppi e soltanto l'8% ha danno delle piccole, ma questo è soltanto un aggravio di costo che si è verificato solo per il primo anno, che come dicevamo prima è stato fortemente compensionato, compensato successivamente da un'ulteriore frammentazione organizzativa del lavoro. A partire dal 2008-2009 però si nota, anche in seguito ai problemi di divisione internazionale, quindi nel processo di globalizzazione, una minore performance, soprattutto in termini di profettabilità, dei call center che operano in Italia. Anche perché si sono modificate le forme di innovazione tecnologica, che hanno reso, diciamo, meno vincolante il passaggio, il colo di bottiglia attraverso quella che è la struttura del call center, ma ha trovato forme di comunicazione e di innovazione tecnologica direttamente, tramite internet, tramite i network sociali, tramite tutta una serie di altri strumenti, il passaggio direttamente alla comunicazione col cliente e la sua fidelizzazione. Tra parentesi c'è anche un processo di automazione che è stato introdotto, per quanto riguarda risposte standard, che ovviamente ha inciso e quindi ha reso meno nevralgico, diciamo, all'interno del ciclo di produzione dell'informazione funzionale all'Italia piuttosto che alla Ciri o piuttosto che a qualunque altro settore, adesso non ci interessa, ha reso meno vincolante, meno stringente il ricorso all'attività di call center e questo ha inciso sulla capacità e sui bilanci dei call center, spesso dei quali hanno pensato di differenziare l'attività produttiva, cioè ridurre il peso dell'attività di comunicazione via call center come attività principale di riferimento, che era quella che era maggiormente cresciuta negli anni precedenti e spostarsi su altre attività sempre collegate all'ambito delle telecomunicazioni ma non necessariamente legate all'attività pure semplice di tipo call centerista. L'outbound ha perso rilevanza e questo ha portato a un incremento delle condizioni di precarietà che si stima essere intorno al 30% cioè contratti non a tempo indeterminato, tutta l'altra pietra di contratti, qualunque essenzino che sappiamo essere molto numerosi. Tenete presente che una percentuale che nel 2007-2008 era inferiore, proprio per il seguito all'effetto anche stabilizzazione, all'effetto anche di, appunto come vi aveva ricordato prima, un po' di paura. L'elevato turnover che si registra all'interno dei call center, proprio perché c'è la grande predominanza di contratti a tempo molto breve, di orario di lavoro molto ridotto, ha l'impressione che negli ultimi ultimi periodi, diciamo nell'ultimo anno, si sia verificato un processo di attenzione anche all'interno del turnover da parte dell'impresa a non assumere personale eccessivamente, con gradi di istruzione eccessivamente elevati. Da una parte c'è un processo di meccanizzazione dell'attività lavorativa in cui le sue capacità relazionali, l'expertise, la capacità comunicativa, l'uso del linguaggio che era all'inizio del cosiddetto comunque rilevante, tende a essere meno rilevante, per cui non c'è più bisogno di una persona che sappia parlare bene, che abbia un certo modo di fare, che abbia una determinata formazione, eccetera. Ma c'è bisogno sempre più di una forza lavoro che viene sempre più telorizzata e meccanizzata dal punto di vista cerebrale cognitivo, in un certo senso. E quindi con anche gradi di istruzione inferiore, che ovviamente sono sempre gradi di istruzione che richiedono un diploma di scuola media superiore, ovviamente. Questo è anche il vantaggio perché ovviamente le persone con minor grado relativo di istruzione, ovviamente sono quelle che hanno meno esigenze, sono quindi più disponibili, diciamo, ad adeguarsi a quelle che sono le condizioni spesso stressanti e ripetitive dell'attività lavorativa. E poi hanno meno, come si suol dire, grilli per la testa nella capacità di rivindicazione, eccetera. E questo è sicuramente un aspetto che conferma quello che è un processo unico, molto diffuso in Italia, di un processo di svalorizzazione dell'attività lavorativa, soprattutto quella relazionale cognitiva, in un certo senso. E questo richiederebbe ovviamente una capacità di intervento a livello sindacale che va oltre la singola specificità dei call center, ma riguarda un discorso più generale.